A Piazza Navona tutto è pronto per ripartire, lo si fa con un gesto significativo, 500 cene in dono agli operatori sanitari che hanno lavorato in prima linea contro il Covid nel Lazio. È l'iniziativa di quattro ristoranti simbolo della celebre piazza, il Trescalini Piazza Navona 28, il Panzirone, il Domiziano e l'antica Trattoria. Mauro Pizzuti, ideatore dell'iniziativa che coinvolge il gruppo dei quattro locali. Abbiamo pensato di dare il nostro contributo a questi veri eroi, quindi operatori sanitari del Lazio, offrendo 500 cene, siamo quattro ristoranti qui a Piazza Navona, appunto per questi operatori sanitari che veramente secondo me sono stati i veri eroi di questa situazione. Nei quattro locali si potranno gustare le migliori ricette della tradizione romana, primi piatti unici come amatriciana, carbonara e caceppepe, secondi piatti tipici come la coda alla vaccinara, la trippa e i piatti a base di pesce, oltre alla vera pizza romana. E poi c'è il Tartufo Trescalini Piazza Navona 28, l'originale, un dolce che racconta la Roma della dolce vita, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato da personaggi di fama internazionale, che spesso tornano appositamente per degustarlo. Vorremmo cogliere l'occasione per riportare i romani a Piazza Navona, cosa che adesso succede di rato, non so perché, perché ormai da anni, sono qui da 30 anni, noi l'accollenza ci teniamo, la qualità, prezzi giusti, è un peccato che il romano non possa soffrire di questo spettacolo unico quasi al mondo direi, e quindi ce la stiamo mettendo tutto, perché vorremmo che il romano ci desse fiducia. A fianco dei ristoranti di Piazza Navona, per promuovere l'iniziativa, anche lo chef televisivo Alessandro Circello. In questi giorni è aperta anche la scuola di cucina del Trescalini, dove in questi anni abbiamo accolto tantissimi turisti italiani e internazionali.